Siamo dinanzi alla Urban Immobiliare di L'Aquila perché oggi andremo a conoscere proprio qui all'interno della sede dell'Agenzia Immobiliare il progetto che ha avuto alla base un concorso di idee organizzato dalla Urban Immobiliare stessa in collaborazione con l'Università degli Studi di L'Aquila. Adesso appunto andiamo a scoprire nel dettaglio questo progetto che andrà a riqualificare una zona importantissima della città di L'Aquila, capologo d'Abruzzo, l'ex edicola di Viale Corrado IV. Andiamo proprio, dirigiamoci verso il proprietario della Urban... Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. E vogliamo seguire, anzi andiamo alla ricerca dei veri protagonisti. Prego. Buongiorno ai ragazzi, protagonisti appunto e vincitori del concorso di idee, una appunto iniziativa sicuramente importantissima perché darà luce, darà nuova vita ad una zona fondamentale dell'Aquila, snodo ovviamente per il traffico cittadino, viario, ma soprattutto un punto d'ingresso da ovest per chi arriva in città. Ma com'è nata questa idea? Sì, infatti diciamo che già l'area d'oggetto di intervento già si collocava su una delle principali arterie della città, pertanto ben si prestava ad ospitare una struttura di accesso alla città, poiché appunto è dove si intersegono le strade principali. Diciamo che ci siamo ispirati per fare ciò a quelli che sono gli elementi storici per l'antoromasia delle città storiche, l'ingresso alle città storiche principali che sono appunto le porte urbiche e da qui è nato il progetto N20 che appunto vuole essere la ventesima porta d'ingresso alla città. Nel fare ciò quindi ci siamo ispirati alle porte appunto storiche e le abbiamo reinterpretate secondo, diciamo in maniera più contemporanea, quindi sono state estruse in una sorta di volume che poi è stato frammentato aprendosi verso lo skyline urbano, quindi del centro storico in ricostruzione. Successivamente quindi queste porte sono diventate involucro del sottostante diciamo cubo vetrato che ospiterà poi l'infopoint che quindi è trasparente perché deve permettere la visione appunto del centro storico. All'interno di questo infopoint diciamo ci svolgeranno molte attività, quindi cittadini, turisti, potranno attingere diciamo tutte le informazioni sugli eventi che si fanno appunto all'Aquila. Dopo appunto aver dato la parola a Luca Cetra passiamo ad un'altra studentessa, protagonista di questo concorso di idee, vincitore su sei ricordiamo elaborati, presentati. Un progetto che ovviamente andrà ad essere configurato anche dal punto di vista degli arredamenti interni. Sì, salve. Abbiamo ripreso la modularità esterna riportandola anche all'interno del progetto. Avendo a disposizione una volumetria molto ridotta per gli spazi presenti sul lotto, abbiamo pensato quindi alla conformazione e alla divisione di arredi interni e arredi che siano soprattutto modulari, quindi che abbiano soluzioni salvaspazio, che diano possibilità a soluzioni flessibili e quindi abbiamo appunto contraddistinto gli arredi in mobili e fissi. Quindi da qui possiamo vedere, abbiamo presentato tre tipi di conformazioni che può assumere la struttura e il cittadino in questo modo diventa direttamente partecipe di questa struttura, quindi modella lo spazio attraverso questi elementi modulari a seconda delle proprie esigenze. Questo è sottolineato anche dall'uso di una bicromia, di cui ci parlerà la collega Elisa Rosa Fucci. Sì, salve. Perché giustamente abbiamo voluto puntare l'attenzione proprio sui materiali, su un rimando alla città. E infatti come vediamo qui abbiamo appunto voluto dare attenzione alla bicromia tipica della città dell'Aquila, quindi la pietra rosa e la pietra avorio della facciata di Collemaggio e della fondata delle 99 cannelle. E quindi avremo un mobilio fisso in avorio e un mobilio mobile color rosa. E anche l'involucro esterno sarà appunto un richiamo, un rimando alla tipica tradizione abruzzese aquilana, ovvero richiama la lavorazione del rame, quello sbalzato, tipico delle conche abruzzese, come vediamo infatti in questa immagine. E quindi abbiamo voluto dare proprio questa importanza ai materiali, anche perché appunto l'Aquila si fonda su questo e ci troviamo appunto in un punto di ingresso della città e quindi è fondamentale che ci ricordiamo di ciò. E noi continuiamo con Anna Paris. Come si è arrivati e perché alla denominazione di Effetto Domino? Allora, Effetto Domino è il motto del nostro progetto e nasce proprio con l'intenzione di voler creare un'architettura che sia modulare, mutevole e soprattutto partecipata, appunto come abbiamo visto dagli arredi e dalla configurazione interna di come appunto i mobili verranno spostati e riconfigurati. E comunque sia di questa architettura che può riadattarsi all'interno della città. Infatti abbiamo previsto degli sviluppi futuri come la realizzazione di alcune pensiline per l'autobus con varie tecnologie multimediali che vanno ad avere la funzione di un arredo urbano. Quindi questa architettura diventa il primo di tanti tasselli che potranno ripetersi per tutta la città proprio come un effetto domino. Ed ora ai microfoni del capoluogo invece la parola dell'ingegner, certo ingegnere, prego, dell'ingegner Massimo Urbano. Sicuramente questa è stata un'iniziativa importante, un concorso di idee che è stato organizzato dalla Urban Immobiliare e dalla Università degli Studi dell'Aquila. Dunque gli studenti assoluti protagonisti. Assolutamente sì. Io non posso far altro che ringraziare intanto l'Università che ha permesso comunque questa sinergia con un'azienda privata e ringrazierei anche con l'occasione l'amministrazione comunale perché in qualche modo ci dà l'opportunità di sviluppare in uno snodo cruciale della città che come avete visto dal progetto diventa una nuova porta di accesso alla città. Un progetto così innovativo che noi ci riteniamo fortunati di poter valorizzare e di investire su questo posto. Quindi grazie, grazie ragazzi e congratulazioni per la vittoria. Ai microfoni del capoluogo questa volta ci siamo spostati e siamo giunti sul luogo che sarà oggetto di riqualificazione. Alle nostre spalle infatti l'ex edicola di Viale Corrado IV. Alessandra Franceschini ci spiegherà proprio i dettagli di questo progetto partendo dalla presa diretta di quello che è il luogo al centro dell'attenzione. Abbiamo analizzato innanzitutto il lotto di intervento che come possiamo vedere è un punto molto centrale della città dell'Aquila in quanto qui convergono le due statali 17 e 80, abbiamo l'uscita dell'autostrada L'Aquila Ovest quindi è un punto di accesso molto importante per la città dalla parte ovest di L'Aquila. Quindi l'idea principale era quella di creare una struttura che fosse anche un punto, una porta d'ingresso e un punto nevralgico per la città che attirasse anche l'attenzione verso la città. Quindi la prima ipotesi che abbiamo fatto era appunto quella di mantenere questo volume ma di direzionarlo in direzione del centro storico. Infatti possiamo vedere lo scalain urbano costellato dalle gru e quindi abbiamo voluto puntare molto l'attenzione anche sul centro storico e sulla ricostruzione del post sisma del 2009. Quindi abbiamo lasciato questa volumetria che sarà appunto il nostro infopoint molto trasparente in modo tale da accentuare questa permeabilità verso il centro e di aggiungere invece un involucro più pesante che sia un segno distintivo come una porta cittadina, la porta numero 20 appunto della città e che si vada a disgregare in direzione del centro storico per sottolineare appunto questa direzionalità verso il centro e questo collegamento. Qui si verrà a creare quindi tra l'edicola e questo volume dell'involucro. Si creerà appunto questo corridoio urbano che vuole anche richiamare un po' l'immagine a cui siamo affezionati dei portici aquilani anche se in chiave molto ridotta e anche moderna appunto perché avremo queste lastre asimmetriche. Questa direzionalità è ripresa anche all'interno dell'otto dove andremo a dividere centralmente sempre in direzione del centro storico i servizi e il mobilio interno. Quindi dividendo i servizi per il cittadino con una soluzione salva spazio di mobili che possono essere componibili e scomponibili assumeranno molte configurazioni diverse a seconda di come vorrà utilizzarle l'utente. Questo perché appunto abbiamo a disposizione una volumetria ridotta e vogliamo creare un'architettura partecipata di cui il cittadino si senta direttamente coinvolto. Grazie allora per la spiegazione dettagliata ad Alessandra Franceschini dall'ex edicola di Viale Corrado Quarto è tutto.